Gian Borno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Juventus-Bayern-Leverkusen 3-0 Oggi abbiamo dimostrato di saper controllare una partita Perché non facciamo questo contro l'Atletico Madrid? Non si sa Però oggi sono contentissimo con i ragazzi Abbiamo combattuto, abbiamo non concesso la difesa da buona Iguain ha fatto un bellissimo gol, pure Berndeschi e Ronaldo con la gira sulla torta E' stata una partita bellissima stasera, mi sono divertito troppo E spero che giochiamo così anche nelle altre partite di Champions League Ovviamente i tifosi avevano un sacco di rumore Che saltavano così, saltavano con le bandierine Però i tifosi non possono far segnare la squadra Abbiamo mito 3-0 e sono convinto che se giochiamo così Il Real Madrid si è indebolito Perché ha fatto 2-2 contro il Ghent Ok? Se continuiamo così e l'Atletico va via per miracolo Il Bayern Monaco viene buttato fuori per miracolo Il Barcellona viene buttato fuori per miracolo Possiamo vincere la Champions League Sono contentissimo come ha giocato la Juventus Iguain il primo gol è stato bellissimo Berndeschi il secondo gol Vabbè era medio ma il gol di Ronaldo bellissimo Tutti i giocatori è assegnato Sono contento che Iguain è tornato E adesso pensiamo al campionato E cerchiamo di vincere anche quello Ma stavolta la Champions è finita Su una buonanotta Comunque ciao Forcivi sempre